No, 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 non ho le gambe di niente, anzi, attualmente stavo andando al Beggio. La discarica del cielo aperto, una discarica del motocicletto. Di che è questa lì? Se una cosa è stata rubata, è andata via qua. Finché è lontano da me, meglio ancora. Ma se cominci a vaccinare da me, eh no. No, 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 certo. Diventa un virgolo. Uno su una scitofono tua, casuale, pronto. Ah, mi scusi, io abito qua, però mi sono dimenticato le chiavi. Si è tornata in meno, caro signore. Lei abita qua, giusto? Alla scala F. Perché sono le mie scitofono? Passate dieci minuti. Sono andato alla porta. La faccia non mi dà tranquillità. Avendo io già l'esperienza di tutte quelle burcherie lì. Immaginate quando arriva un calcoporto nell'altra parte del mondo e vede tutte quelle facce. e lui ha capito che avevo il pallino in testa mia. Me le prendo qualche cosa. Le becco sulla testa e si va. È entrata l'acqua. Vabbè. Che è che ha fatto i buchi lì? No, la... Di loro, di l'Aler. L'Aler? Sì, sì. Ecco la testa del calcio. C'è tante di quella crebba nel muro dentro. Che io vado a prendere una scatola di stucchi e comincia a sistemare. Ma io spero che crebba. Tutto il palazzo. Cade per terra. Per non quando siamo fuori. C'è tante di stucchi. C'è tante di stucchi.